Aquila calva, Aquila pelosa, mi senti? Sei pronta a partire? Pronta per fare 200 chilometri? Sì! Fammi vedere come sei pronta! Abbiamo le radioline! Roger partiamo! Claudia, ho un'idea! Mettiamo le biciclette dietro a questa macchina, così facciamo meno fatica. Ho preso le banane. Portiamo la merenda. Che fatica! Mamma mia! Queste salite incredibili! Accidenti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale a tutti! Arrivederci, buon uomo! Grazie del passaggio! No, tu rimani qua! Dove vai? Ciao, comodità! Che cosa c'è in questa cassafotta? Che ci sarà dentro? Delle chiavi! Chissà cosa aprirà! Andiamo a vedere! La mappa! Wow! Seguiamo le indicazioni! Una cartina di carta! Sembra di vivere negli anni Ottanta! Poffa mio! Che freddo! Poffa mio! Ma dove andiamo? Ok! Dopo 45 minuti abbiamo trovato forse il nostro appartamento! Megliare! Salve a tutti! Siamo in questa nuova casa! Faremo un room tour tutti i video! Allora, qui abbiamo la mia stanza! I letti non erano fatti quindi abbiamo dovuto farli noi! Hai fatto il letto! Ma che brava! È fatto proprio bene! Poi procediamo nella seconda camera! Qui il secondo letto! Vabbè, che è fatto meglio! Solo che è il lezzurro simbolo! Ma vabbè! Ciao! Grazie per l'affidabilità! Amici siamo nelle nuvole! Guardate! No love, no light, no one to lead you out through the night, each day, each fight, your hope is struggling and nothing seems right. Just let go, everything that hurts you, and reach out for everything that's in you. And for the light, we sail until the storm is over, and everything is alright. But today, we'll just keep dancing in the rain. Dancing in the rain. 설che of blue口 because we don't have a little with their crimes! C'e una pecora nascosta dietro a cappello! Andiamo a cercare cibo?! Io voglio un tramezzone, il tramezzino è troppo piccolo. Abbiamo comprato qualche casina. Una bella tua. È una sette sano perché meglio facciamo sport, abbiamo bisogno di gallette di riso e adesso non guardare. Gallette di riso per stare leggeri, però abbiamo preso l'acqua, non abbiamo preso bibite. Siamo qui, abbiamo trovato un bellissimo posto per mangiare a terra. La tovaglia e la zia. Grazie a tutti.